Indicazioni di posa per la messa in opera del sistema Isotec. Fissare lungo la linea di gronda un listone di battuta in legno di altezza pari allo spessore del pannello. Il listone serve anche come primo punto di bloccaggio del canale di gronda. È necessario interporre uno strato isolante di guaina butilica tra il correntino e la gronda. Refilare il pannello sul lato longitudinale in relazione al tipo di tegola utilizzata oppure utilizzare l'apposito pannello a passo ridotto. Il pannello Isotec è disponibile negli spessori di 6, 8, 10 e 12 cm. Fissare il pannello con viti autofilettanti se la struttura portante è in ferro, con tasselli ad espansione per struttura in latero cemento e con tirafondi su strutture in legno. Distanziare i fissaggi di circa un metro tra loro. È importante che i fissaggi siano sempre effettuati nella parte posteriore piana del correntino metallico. Sigillare i giunti laterali dei pannelli sagomati a coda di rondine con silicone monocomponente prima del loro accostamento all'incastro. Una volta posato e fissato il pannello, procedere all'impermeabilizzazione del giunto con l'apposita guaina di alluminio butilico. Proseguire con la seconda fila partendo con un primo pannello a passo intero e accorciandolo per ridurne la lunghezza, in maniera tale che i giunti laterali risultino sfalsati rispetto alla prima fila. Il taglio del pannello può essere fatto in due riprese utilizzando per la parte schiumata un segaccio a lama rigida e per la parte in metallo un flessibile a disco oppure in una sola ripresa con flessibile a disco. Prima di fissarlo, tirare il pannello verso quello sottostante per far ben combaciare la battentatura. Continuare per le file successive con la stessa sequenza. Riutilizzare le porzioni di pannello tagliate per la fila successiva. Procedere con la stessa modalità di posa delle lastre fino ad arrivare al colmo della falda. In prossimità della linea di colmo, completare il faldale con un pannello sagomato secondo la necessità dimensionale del faldale stesso. Riempire con schiuma di poliuretano il raccordo tra i pannelli di chiusura della linea di colmo ed il raccordo in prossimità della chiusura laterale. Successivamente, rifilare la schiuma eccedente e impermeabilizzare con guaina di alluminio butilico. Realizzare il sostegno dell'ultima fila di tegole in colmo attraverso un apposito correntino fissato alla struttura sottostante. Fissare le staffe per sottocolmo alla parte piana del correntino. Posare e successivamente ancorare il sottocolmo in zinco piombo tramite l'inserimento nelle apposite alette poste sulla sommità delle staffe. Ancorare la scossalina laterale a listone di battuta in legno, alto quanto lo spessore del pannello e presente in prossimità della chiusura laterale. Lungo la linea di gronda, utilizzare l'elemento parapasseri areato che assicura anche la continuità di pendenza nella posa della prima fila di tegole sulla linea di gronda. Raccordare tutti i corpi emergenti della copertura, quali i camini, canne di esalazione, abbaini, finestre da tetto eccetera, con il pannello Isotec mediante l'utilizzo della schiuma di poliuretano. Successivamente, a protezione dello stesso, posizionare una V rovesciata a monte del corpo emergente. Rivestire il tutto con il nastro di alluminio butilico.